Vincenzo Salerno è polemica sui fondi previsti per oratori e parrocchie. Che cosa sta succedendo? Sono fondi ministeriali del Ministero della Famiglia che il Comune ha deciso di gestire attraverso l'utilizzo dell'operato degli enti di culto delle parrocchie e degli oratori. Una scelta condivisibile in quanto le parrocchie sono diffuse sul territorio e risaputamente capaci di poter essere un centro di aggregazione. Il punto sta che nell'analizzare gli atti, quello che è balzato agli occhi è stato il fatto che queste parrocchie erano state chiamate a competere per il finanziamento, presentando dei progetti. Sono stati esaminati da un gruppo di lavoro che in base alle griglie di valutazione ha stilato una graduatoria e poi viene scelto da parte dello stesso gruppo di lavoro di non premiare i progetti migliori a discapito dei peggiori ma di dare lo stesso importo a tutti e quindi da un concorso di finanziamento ci è apparso un contributo a pioggia. Quindi quello che non si comprende è il criterio adottato per l'assegnazione di questi fondi perché c'è una discrepanza tra i punteggi dei singoli progetti e i fondi assegnati. Esattamente perché una diversa valutazione vuol dire progetti qualitativamente migliori e soprattutto un'altra cosa che appare strana è che lo stesso contributo viene dato a prescindere dal numero di ragazzi coinvolti. Un'altra perplessità che abbiamo sottolineato è che essendo il comune l'attore principale in entrata e in uscita dell'intero progetto non abbia un stilato, un avviso pubblico per poter accogliere le istanze da parte dei cittadini. Quindi non ha possesso di quelli che sono i processi di formazione dei gruppi di ragazzi che poi effettivamente parteciperanno a queste attività. Nell'occhio del ciclone è finita anche la chiesa evangelica luterana, perché? Perché tra i 17 enti di culto che hanno partecipato la commissione di trasparenza si è ricordata della partecipazione di quest'ente circa un anno fa, se non anche di più, quando sono state regalate al comune di Torre del Greco dei Cessini per le deiezioni canine e ricordavamo che fosse la comunità di Torre Annunziata. In realtà è proprio questo che chiediamo un attimo in approfondimento, se effettivamente questo ente di culto opera effettivamente sul territorio o se invece non aveva i requisiti per poter partecipare. Luigi Caldarola, per fare chiarezza su questa vicenda, voi avete appunto chiesto al segretario generale delle uscidazioni in merito. Sì, abbiamo chiesto al segretario generale come organo di trasparenza e anticorruzione di chiarirci alcuni aspetti che ci sono balzati agli occhi in sede di commissione, sia l'attribuzione dei punteggi sia per quanto riguarda il controllo effettivo dei documenti che era stato richiesto alle parrocchie. Dalla relazione che ci è pervenuta ad oggi, ci è balzato agli occhi che alle parrocchie sono stati chiesti dei documenti che probabilmente le parrocchie non rilasceranno mai perché l'antimafia o tantomeno i flussi finanziari o l'equitalia, insomma dei documenti che ci appaiono ad oggi forse eccessivi come richiesta per gli enti di culto e quindi probabilmente così come ci ha già riportato la dottoressa Sacco in commissione verranno certificati con una dichiarazione. Se così fosse ci viene ancora più chiaro il dubbio che forse questa procedura andava, così come abbiamo chiesto al segretario generale, sospesa in autotutela per far sì che si chiarissero questi dubbi. Come intendete procedere? Siamo in attesa dei documenti, stamattina siamo passati agli uffici delle politiche sociali per chiedere di integrare alcune documentazioni, insomma in giornata produrremo ulteriori richieste per far sì che comunque tutto venga fatto secondo trasparenza e legalità perché la trasparenza non può essere delegata solo per dei fini che sono benevoli perché sicuramente la scelta di deputare le parrocchie e gli oratori del territorio è una scelta che è condivisibile e che potremmo sposare in pieno visto che sono i primi fruitori del malessere dei cittadini e dei bambini in questo caso. Quindi ben vengano queste idee e queste iniziative ma che vengano fatte con trasparenza e legalità perché è l'obiettivo minimo che un'amministrazione si deve porre.